Questa sera terminano le primarie con un vincitore, Giuseppe Germani, ha preso il 53%, ha vinto come Giuseppe ha accompagnato la sua campagna delle primarie, ha vinto l'esperienza, un'esperienza che adesso Giuseppe metterà a disposizione per l'obiettivo prioritario e principale che il Partito Democratico ha, quello di tornare al Governo. Quell'esperienza in primis Giuseppe e poi anche il Partito Democratico e Andrea Taddei dovranno mettere in campo per recuperare quel gap che ci manca per poter vincere le elezioni. Hanno votato più di 2.000 persone, questo è un dato molto positivo perché è stata ribadita la grande voglia di partecipazione quando la politica chiama il popolo risponde. Quindi un dato molto positivo, certamente per vincere le elezioni non bastano le 2.100 voti, dobbiamo arrivare a 7.500, quindi dobbiamo ancora recuperare circa 5.000 voti. Questo lo faremo attraverso l'esperienza di Giuseppe, attraverso la freschezza di Andrea e lo faremo cercando innanzitutto di evitare gli errori che abbiamo commesso nel passato. Verrebbe da dire che il risultato, anche in percentuale, è lo stesso di quello che distanziò i due candidati nel 2009. Però sono diverse le persone, è diverso il contesto e è diverso anche l'obiettivo. Lì lottavamo per ribadire la nostra presenza al Governo e qui lottiamo per riconquistarla. Ribadisco che il partito, Giuseppe e Andrea hanno da questo momento e da questa sera un solo obiettivo che è quello di tornare al Governo. Lo faremo grazie all'esperienza e alla forza che le primarie hanno dato a Giuseppe e alla freschezza e alla forza che queste primarie hanno dato ad Andrea. Giuseppe, Germani, vincitore delle primarie e candidato al sindaco del Partito Democratico. Sì, non aggiungo molto a quello che ha detto Andrea. È una serata di soddisfazione. Io credo che devo dare atto a Andrea Taddei che è stato un avversario all'altezza della situazione, ha dato filo da torcere, però è stato sempre, sempre, sempre corretto. Questo credo che ci fa ben sperare per il futuro e credo insieme possiamo dare quelle certezze e quel progetto di sviluppo che manca alla città di Orvieto. Quindi credo che da domani possiamo iniziare a lavorare noi due e insieme al partito perché si possa mettere in campo una coalizione all'altezza della situazione per riconquistare il comune di Orvieto. Grazie Giuseppe. Andrea che esce perdente ma esce forte perché in 15 giorni gli abbiamo fatto fare questa esperienza politica forte e lo abbiamo messo in contatto con tatti cittadini con una città molto complicata che ha molti problemi. Credo che la sua esperienza anche di questi giorni ci sarà fondamentale per poter vincere le elezioni. Andrea Taddei. Grazie. Sicuramente per me è stata un'esperienza faticosa ma molto ricca e io speravo di farcela, l'avevo detto a Giuseppe, siamo arrivati con una differenza non elevata e vi dirò con molta serenità e con lo stesso spirito con cui è iniziata e con cui secondo me sia conclusa questa esperienza delle primarie che è quella proprio di una competizione basata sulla stima e sull'onestà. Il mio 47% come molti diciamo si chiedevano da domani, dall'uno di mattina sarà a completa disposizione per cominciare a lavorare e cominciare a costruire qualcosa insieme. Quindi quella parte di cambiamenti cercherò di portarla all'interno di questo gruppo e affidarla alla guida di Giuseppe Germani. Grazie. Grazie.